Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere come si crea un file LUT per l'applicativo Premiere Pro. Ora, parlando di LUT, non so se tutti sapete che cosa significa, stiamo parlando di Look Uptable. Fondamentalmente è un preset, è un filtro se vogliamo chiamarlo così, è un file di istruzioni che dice all'applicativo che sembianze deve assumere il nostro filmato. Questo è molto utile perché nel momento in cui, per esempio, vogliamo avere un look consistente in tutti i nostri video, applicare una LUT è il metodo più semplice per avere lo stesso mood sia in un video girato una settimana fa, sia in un video girato oggi, sia in un video girato fra un anno. Ovviamente se noi applichiamo la stessa LUT saremo in grado di richiamare quelle sembianze per tutti i nostri video, questo ovviamente a patto che quel video sia stato girato in condizioni simili. Ovviamente non possiamo fare una LUT per una ripresa notturna e poi applicarla a una ripresa diurna, o meglio possiamo farlo, ma l'effetto non sarà fedele e dovremo andare a ritoccare qualcosa, probabilmente non riuscendo a ottenere l'effetto che volevamo. Quindi le LUT funzionano, ma bisogna applicarle con un minimo di testa. Andiamo a vedere come si realizza una LUT e come si salva in un formato che Premiere sia in grado di leggere e richiamare di volta in volta. Molto bene, eccoci qui all'interno di Premiere. Questo qui è il filmato su cui vogliamo realizzare la nostra LUT. Ora la prima cosa che andiamo a fare è selezioniamo il pannello progetto. Andiamo su File e creiamo un nuovo livello di regolazione. Possiamo anche rinominarlo, ma in questa sede non ci interessa. Andiamo a posizionare il nostro livello di regolazione sopra al video su cui vogliamo applicare l'effetto. Vado a trimmarlo un pochino in maniera tale che occupi una porzione di video considerevole. A questo punto posso andare su Effetti, posso selezionare Lume Tricolor e posso applicarlo al mio livello di regolazione. Potrei applicarlo anche al filmato stesso, ma è più corretto lavorare in questa maniera. Ora andrò molto brevemente a muovere questi cursori per realizzare una LUT, ma è molto alla buona, quindi non prendete per oro colato quello che sto facendo perché è puramente indicativo e serve solamente come esempio. Diciamo che io potrei già essere soddisfatto così perché come potete vedere questo è il prima, questo è il dopo. Ho già dato un pochettino di ambiente in più alla mia ripresa. Un'altra cosa che posso fare è andare a prendere il selettore del bilanciamento del bianco e andare a selezionare questo grigio in maniera tale da essere più coerente possibile con quella che era la luce reale nella stanza. Una volta che io ho eseguito questo procedimento, tendenzialmente la mia LUT potrebbe essere finita. Potrei fare 100 cose, ma potrei anche considerarla finita così. Quindi questo potrebbe già essere un momento buono per andare a salvare una LUT di questo tipo che io poi posso applicare di volta in volta a altre riprese realizzate nel medesimo ambiente con le medesime luci e con la stessa strumentazione. Se quello che abbiamo fatto ci soddisfa e vogliamo effettivamente salvare la nostra LUT come un filtro che possiamo utilizzare in seguito, quello che dobbiamo fare è attivare questo pannello, il pannello Color. Ora io sto utilizzando uno spazio di lavoro personalizzato. Quale che sia lo spazio di lavoro che state utilizzando, quello che dovete fare è andare a selezionare Color. Ora come potete vedere la nostra interfaccia è completamente cambiata e qui abbiamo il pannello che ci interessa. Ora se ci richiamo sul menu hamburger di questo pannello, andiamo a cliccare qui sulle tre linee, come potete vedere avremo Export Cube. Questo è quello che ci interessa perché il punto Cube è il formato delle LUT che Premiere è in grado di riconoscere. Per cui nel momento in cui io gli vado a dire Export Cube, lui mi chiederà una destinazione e io gli andrò a dire che voglio salvare la mia LUT in una cartella qualunque, basta che sia comoda per me e la chiamerò LUT TEST. Vado a salvarla. A questo punto posso tornare sul mio workspace abituale. Adesso che cosa succede? Nel momento in cui, supponendo che tutto sia stato fatto nel modo più corretto, io vi invito a ritornare allo spazio di lavoro su cui eravate precedentemente, quindi torniamo alla nostra timeline così com'era. Quello che facciamo è che andiamo a selezionare il nostro livello di regolazione e cancelliamo il Lumetri Color. Andiamo a rimettere una nuova istanza dell'effetto Lumetri Color, quindi eccolo qui. Andiamo ad applicarlo nuovamente. Ovviamente ora non sta facendo nulla perché quello che avevamo fatto, le modifiche, le abbiamo appena buttate via. Quello che andiamo a fare però, andiamo a selezionare Basic Correction e Input LUT. Quindi andiamo a selezionare Browse. Qui come potete vedere esistono già dei preset ma a noi interessa andare a selezionare il nostro. Per cui gli diciamo sfoglia fondamentalmente, si aprirà una finestra di dialogo che ci permetterà di selezionare la sorgente da cui vogliamo andare a importare e noi andiamo a prendere luttest.cube, il file che abbiamo appena salvato. Andiamo ad aprirlo e boom! Come potete vedere le modifiche che avevamo fatto vengono riportate su questo file. Possiamo andare ad attivare o disattivare la nostra LUT. Ora il vantaggio di salvare una LUT in questo modo è che ora noi abbiamo libero accesso ai valori di esposizione e di white balance. Quindi possiamo andare a customizzare ulteriormente la nostra ripresa partendo da zero perché abbiamo stabilito che questa era la nostra color correction base. Questo è un procedimento molto molto utile se si vuole avere consistenza attraverso una serie di filmati che utilizzano le medesime caratteristiche, la medesima illuminazione e la medesima strumentazione di ripresa. In particolare vi faccio l'esempio mio. Io facendo delle serie di video in cui fondamentalmente il look è molto molto simile sono molto avvantaggiato dall'utilizzo di questo tipo di procedimento perché mi permette di avere una LUT che posso di volta in volta applicare a tutte le mie riprese. Io potrei applicare questa LUT ovviamente anche alla ripresa direttamente. Potrei applicare l'effetto Lumetricolor a questa ripresa e applicare la stessa LUT. Quindi potrei essere avvantaggiato anche da un procedimento di questo tipo. Ma quello che mi interessava farvi vedere in questa sede è semplicemente come si crea e come si salva una LUT. L'utilizzo che ne farete successivamente dipende solamente da voi, dalla vostra esperienza e dalla vostra intelligenza di filmmaker. Bene, come avete visto il procedimento è assolutamente semplice e lineare e ci permette di salvare un file che non pesa praticamente niente, un file che siamo in grado di memorizzare dove vogliamo perché possiamo salvarlo sul nostro sistema ma anche archiviarlo su una periferica esterna e possiamo anche esportarlo su più macchine. Questa è una cosa molto utile perché ci permette se lavoriamo in team per esempio di essere coordinati e di applicare la stessa lookup table a tutte le riprese indipendentemente dal computer su cui stiamo lavorando. È un procedimento estremamente utile anche perché lavorando in team è possibile apportare modifiche alla LUT ed è possibile scambiarsela e andare a sostituirla oppure integrarla in un progetto già esistente. Questo in maniera assolutamente non distruttiva senza perdere e compromettere la qualità delle riprese originali. Se avete seguito fin qui a questo punto vi chiedo ovviamente di mettere un like a questo video e anche di seguire il canale attivate la campanella perché ci saranno presto aggiornamenti su questo e su altri temi del video making detto questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.